E' arrivata al Capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e tre figli è finito l'amore ma non la stima e l'affetto. Si legge in un flash pubblicato su Dago Spia. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura con ogni probabilità verissimo da Silvia Tofanin nel fine settimana. Per il momento la coppia non ha ancora ufficializzato la separazione ma risale a pochi minuti fa un post pubblicato da Sonia su Instagram che rafforza l'ipotesi di una separazione. Il tempo non aggiusta le cose e te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu, ha scritto la produttrice. Già da qualche tempo era nell'aria le avvisaglia di una crisi tra i due. L'opinionista del grande fratello Vip nel corso di una recente intervista aveva annunciato di vivere separata dal marito in un altro appartamento. Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e ora che i figli sono più grandi possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Da parte di Bonolis non è filtrata alcuna indiscrezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.